Il gatto ha nuove code, il gatto ha nuove code... ...in rete più che sulla carta stampata paga l'autorevolezza e paga il lungo termine. Cioè molto spesso si pensa, specialmente in un giornalismo che veniamo dalla carta stampata, anch'io ho iniziato così ovviamente, che la rete, essendo un medium rapido, veloce, immediato, abbia un riscontro rapido, immediato, veloce. Non è così, è esattamente il contrario. Cioè in rete si conquista l'autorevolezza, si conquista la web reputation, come appunto viene chiamata, nel tempo, con una lunga e continua ricerca di credibilità. Questo vale per il blog da 30 lettori e vale per l'Affington Post. E questo non è un concetto che noi, che siamo passati in Italia, parte di noi, dalla carta stampata a noi, secondo me è ancora fatto proprio. Wikileaks nasce come una forma di attivismo politico attraverso il giornalismo, ed è una cosa diversa. Cioè nasce come una forma di trasparenza, insieme causa ed effetto, secondo me, dell'età della trasparenza, e concordo con quello che diceva prima il direttore Carelli, sui benefici complessivi della trasparenza, non solo sul giornalismo, ma anche più in generale sulla democrazia e sulla salute di un paese. Dopodiché Wikileaks ha tanti nemici che non sono soltanto i governi che si vedono svelati i loro dispacci, ma sono anche parte, diciamo, dell'establishment editoriale che ha paura di un modello che invece, secondo me, si va a integrare molto bene con il giornalismo tradizionale in quanto filtro, qui non parlo di carta stampata e di rete, ma filtro, spiegazione, approfondimento. Perché Wikileaks è un giornalismo di database, e il database è fondamentale che l'utente ne abbia accesso diretto, ma contemporaneamente è fondamentale che l'utente abbia qualcuno che lo filtri, lo interpreti, lo aiuti nella comprensione. Io vedo banalmente quando ciascuno di noi fa un blog, se nel blog non cita la fonte, meglio il database, fa una figura, appunto, perde il web reputation, perde la credibilità. Però nel contempo non può essere il puro pappagallo della fonte. Quindi c'è un lavoro di interpretazione insieme ad un lavoro di connessione con il database.